Tantissime cose, dall'alimentazione, all'abitare, all'ambiente, all'armonia, che sono i temi principali della fiera. Quest'anno in fiera trovate le persone che sono interessate o curiose, trovano tantissime informazioni anche per quanto riguarda il mondo dei bambini e il mondo degli anziani, con delle conferenze specifiche a tema. Trovate il Feng Shui, ovviamente, e in ogni spazio veramente trovate tantissimi spunti. Ogni stand è allestito con cura per rispondere proprio a delle domande delle persone che arrivano, delle esigenze differenti e le sfaccettature sono molteplici. Trovate la parte commerciale ma anche la parte culturale, perché in fiera ci sono tantissime conferenze su vari temi, veramente molto dettagliate e molto curate in tutti gli aspetti. Vi facciamo fare un viaggio straordinario a 360 gradi dedicato alla cultura del Giappone. Partiamo con il capo simbolo del Giappone che è il kimono, per passare con la cerimonia del tè. E poi abbiamo numerosi laboratori, tra cui origami e kanzashi. Abbiamo uno spazio dedicato al massaggio Kirei Kobido. E poi oggi, in particolar modo, abbiamo un ospite eccezionale, che è una blogger giapponese ormai conosciutissima in tutta la Liguria e non solo, con i suoi prodotti cosmetici 100% naturali e 100% made in Japan. Domenica vi attendiamo per il grande finale, alle ore 16, con la sfilata di kimono cerimoniali del Novecento e lo show cooking a cura di Perfetto Chef, con la ricetta in esclusiva Zen A, che sarà un connubio tra tradizione ligure e tradizione nipponica. Grazie.